Buona serata, buon viaggio da Firenze Smart. Mauro Ciutini ancora a coda per l'incidente avvenuto in A1 tra Firenze in Pruneta e il Bivio A1 variante di Valico. Siamo a 6 km con tendenza alla diminuzione. Ora tratti in A11 tra il Bivio A11 e Chiesina Uzzanese in direzione di Firenze. Tornando all'A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud il traffico è intenso in direzione di Firenze. Prudenza per i lavori, personale su strada tra Aglio km 255 e Calenzano, lavori in entrambe le direzioni. Ricordo in A1 dalle 22 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 aprile sarà chiusa la stazione di Prato Est in uscita per chi proviene da Firenze in alternativa a uscire a Prato Ovest. Oversini Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.